Dylan Dog 434, gli infernauti. Si conclude il rilancio di Dylan Dog prima del prossimo numero che appunto sarà l'inizio di un nuovo inizio. Sono un po' emozionato. Wabalabababab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti, nella rubrica Dylan Dog e Universo Bonelli. Quindi parliamo appunto del numero 434 che è uscito da qualche giorno in edicola. Non ho potuto parlarne subito perché se avete seguito i miei spostamenti su Instagram e sugli altri miei social saprete che sono stato a Lucca Comics and Games 2022. Di conseguenza non ho avuto modo di leggere questo fumetto il primo giorno che è uscito, ma se questo video arriva in ritardo sappiate che invece il prossimo video arriverà in anticipo perché a Lucca Comics and Games distribuiva, cioè vendevano, vendevano già il numero del mese prossimo. Quindi appena finirò questa recensione io andrò a leggere subito quello che voi leggerete in edicola a fine mese. Prima di cominciare se ancora non lo avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che sono degli infernauti e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero, dello scorso numero a cui si lega che è scrutando nell'abisso il numero 408 e scrivetemi cosa ne pensate, cosa vi aspettate dal prossimo rilancio editoriale. Dicevo sono un po' emozionato perché mi sono reso conto ora che il primo numero che ho recensito, il primo numero di una serie che ho iniziato a recensire di Dilan Dog è stato proprio il 399. Avevo recensito Eterne Stagioni perché c'era in allegato il poster, quindi avevo fatto l'unboxing, poi ne avevo parlato. Avevo recensito come storia singola La Lettera Bianca che è tuttora una delle mie storie preferite di Dilan Dog del Color Fest. Però non avevo mai recensito nulla della serie regolare in modo continuativo. Ho iniziato proprio con Lucca Comics & Games 2019 dove appunto avevo preso il 399 e il 400 in anticipo. E da lì ho iniziato. Quindi ho iniziato si può dire con il soft reboot di Dilan Dog, con il rilancio editoriale di Dilan Dog. Abbiamo attraversato il ciclo 666, abbiamo parlato insieme dei numeri post ciclo 666, alcuni erano riusciti, altri erano meno riusciti. Per esempio mi ricordo che il 407 non mi aveva colpito particolarmente, mentre il 408, che è stato il secondo numero post 666, mi era piaciuto. E sono molto felice che questo, in un certo senso, questo secondo numero vada a concludere il ciclo del rilancio editoriale di Dilan Dog. Rilancio che non è stato fortunatissimo perché si è capito subito che le storie erano storie vecchie, un po' riciclate, che non riuscivano a cozzare bene con questo soft reboot che si era tentato di dare. Con il ciclo 666, ciclo che io tra l'altro avevo apprezzato particolarmente, ma che purtroppo è da considerare come un ciclo a sé stante e non come appunto l'inizio di una nuova saga, perché comunque non ci sono stati poi i grossi cambiamenti anche a livello narrativo che si sperava ci fossero, quantomeno per i nuovi lettori. Abbiamo di nuovo Gigi Simeoni al soggetto e alla sceneggiatura di questo sequel della sua stessa creatura, il 408, però adesso Gigi Simeoni è anche ai disegni, mentre la volta scorsa aveva dedicato solo soggetto e sceneggiatura, i disegni erano di Marco Soldi, qua invece si occupa a piene mani di tutto l'albo. Un'opera decisamente più riuscita dell'ultimo lavoro che ha visto un artista a tutto tondo sulla serie regolare, che era Carlo Ambrosini con Abissi Boreali, che io non avevo particolarmente apprezzato. Qua invece devo dire che sia la storia che i disegni mi sono piaciuti. Non è proprio il mio Dylan preferito dal punto di vista dei primi piani, è un po' mascellone, però a parte questo, non lo so, ho trovato alcune inquadrature molto Alan Ford, molte espressioni anche di Dylan medesimo, molto in stile Alan Ford, ma a parte questo ci sono invece altre inquadrature, tipo queste, dove Dylan è decisamente in character e la storia mi è piaciuta molto. Mi è piaciuto anche il fatto che i personaggi di contorno non siano solo di contorno, è la bella del mese, poi diventa un utile assistente, Groucho non è solo la linea comica ma poi diventa parte della squadra e lo stesso vecchietto che c'era anche in questo numero diventa parte della squadra per andare a capire cosa sta succedendo. Quindi tutto l'aspetto di interconnessione tra i personaggi è stato uno dei punti forti di questa storia. Uno dei punti deboli di questa storia purtroppo è che secondo me si è andati un po' troppo lontani rispetto a quello che ci si aspettava da quest'altra storia. Ora, va bene che ci sono delle storie di Dylan Dogg che sono sequel di storie di vent'anni prima e non ci si ricorda nulla e non ci si capisce nulla. Qua sono stato molto felice di aver finalmente letto una storia, un sequel, a distanza di solo un anno dal precedente. ci starebbe tantissimo secondo me come, come si dice, come distanza di tempo da una storia al suo sequel. Però ecco, se la storia precedente sembrava far intendere che ci fossero dei demoni pronti ad attaccare la terra da un'altra dimensione, da una dimensione infernale, sotterranea, perché nella nostra concezione mentale l'inferno è sottoterra e l'avessero fatto solo nel momento in cui avremmo tutti contemporaneamente chiuso le palpebre, qua si parte da questo preconcetto, da questo presupposto, però poi si va un attimino ad espandere il concetto dicendo che tutto quello che vediamo in questa strana dimensione sotterranea è perché noi lo immaginiamo così e quindi questo va a spiegare molte... cioè va a giustificare molte libertà narrative sul fatto che ci si ispira liberamente a Cthulhu, a Cthulhu, scusate, ci si ispira liberamente all'inferno dantesco. Perché? Perché i nostri protagonisti hanno il concetto dell'inferno che è quello dantesco, hanno il concetto di tentacolo enorme, di bestia interdimensionale che è quella di Cthulhu e così via. E quindi va un po' a spiegare tutti i cliché che vediamo in questa storia. Quello che però non viene spiegato e che avrei gradito venisse spiegato alla fine di questo albo è proprio cosa c'è dall'altra parte. semplicemente c'è un demone che sta influenzando le persone al punto che a un certo punto persino i membri della squadra stessa iniziano a subire gli effetti negativi di questo demone ma non si va mai a capire proprio che cos'è. Per carità, le storie di Dylan Dog sono sempre un po' così dove non c'è mai alla fine una vera e propria spiegazione. Però, non lo so, un piccolo contentino in una storia che è un sequel l'avrei gradita. Tutto lì. Mi aspettavo magari, non lo so, un collegamento anche a Golconda per esempio che è uno dei tanti inferni che vediamo sottoterra in Dylan Dog sarebbe stato carino. O quando ho visto Graucio che era influenzato da questo strano minerale demoniaco sembrava che diventasse cattivo sarebbe stato bello collegarlo appunto al nuovo rilancio di Dylan Dog dato che mi pare di capire che ci saranno le interdimensioni per andare a ricicciare fuori il Dylan classico quindi sarebbe stato carino se il Graucio Buono che abbiamo visto nella saga 666 diventasse cattivo e uccidesse Dylan per poi rilanciarlo nel prossimo numero sarebbe stato un'idea carina però, vabbè, non fa niente, è andato bene così mi è piaciuto comunque vedere tutto il lato umano di Graucio anche di fronte al sacrificio del vecchietto che questa volta ha proprio rinunciato alla vista in tutto e per tutto quindi è diventato totalmente cieco e poi hanno mostrato appunto il peggiorare anche della malattia della demenza senile del vecchietto che devo dire comunque è ancora molto in forma perché la maggior parte del tempo è lucido quindi direi che mi sento di promuovere questa storia non è appunto una storia trascendentale però è davvero una storia bella interessante, appassionante che ti fa passare un'ottima mezz'ora dunci si infundo, volevo solo fare un appunto dato che esce il film di Dampir anzi è uscito il film di Dampir il 28 ottobre in edicola nel fumetto trovate anche questa pubblicità la locandina stile Chuck però in formato bonellide della locandina di Dampir molto carina, io non la stacco perché c'erano anche a Lucca me le hanno date anche a Lucca però ecco è molto carina come cartoncino da tenere grazie per avermi seguito fino alla fine di questo video fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia e cosa vi aspettate dalla prossima io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti